I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cassino, hanno dato avvia ad una vasta operazione di polizia in diverse località del sud pontino ed in contemporanea nella provincia di Salerno. L'attività viene svolta nell'ambito di un'indagine condotta dalle fiamme gialle di Formia che hanno dato esecuzione ad un provvedimento del GIP presso il Tribunale di Cassino con cui sono state disposte 11 misure cautelari personali di cui 4 ai domiciliari e 7 con l'obbligo di presentazione quotidiana alla Guardia di Finanza in quanto gravemente indiziati di appartenere ad un articolato sudalizio criminale con base a Formia ma ramificato nella provincia di Salerno e dedito alla creazione e commercializzazione di falsi crediti d'imposta quantificati in oltre 79 milioni di euro maturati con l'indebito ricorso alle misure di sostegno emanate dal Governo con il decreto rilancio durante la fase più acuta dell'emergenza sanitaria da Covid-19 per aiutare le imprese in difficoltà. Durante l'operazione sono state eseguite 33 perquisizioni ed è stato disposto il sequestro dei falsi crediti di beni mobili ed immobili, assetti societari, denaro e preziosi per la fattispecie del reato contestate dall'autorità giudiziaria di Cassino, di associazioni per delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed autoriciclaggio. Risulterebbero costituire il sudalizio diversi soggetti, alcuni pluri pregiudicati anche per reati tributari, tra i quali un soggetto principale esponente con condanna per estorsione e rapina. Le indagini hanno permesso di acquisire elementi utili a ricostruire l'articolato sudalizio nel quale risulterebbero coinvolte 32 persone e con un nucleo centrale composto dalle 11 persone destinatari delle misure cautelari di custodia, tra cui imprenditori, tre soggetti che hanno rivestito il ruolo di prestanome ed un consulente del lavoro. L'autorità giudiziaria inquirente ha ritenuto che attraverso questi artifici e raggiri i componenti dell'organizzazione hanno indotto in errore l'Agenzia delle Entrate, procurando l'ingiusto profitto di ottenere crediti di imposta falsi che vengano attestati quali esistenti e cedibili a terzi, cagionando conseguentemente un danno patrimoniale all'erario corrispondente al valore dei crediti di imposta artefatti e complessivamente negoziati attualmente stimato in 80 milioni di euro. Dalle investigazioni svolte è emerso inoltre come il meccanismo ritenuto fraudolento veniva effettuato anche dopo le modifiche normative introdotte dal cosiddetto decreto antifrode. Oltre all'ingente danno patrimoniale alle casse erariali, il profitto ottenuto dagli indagati dei reati ipotizzati è stato quantificato in circa 8 milioni di euro.